Buongiorno, buon sabato mattina, benvenuti a Occhio ai Giornali, la rassegna stampa di Fano TV, canale 17 e un saluto anche a tutti coloro che ci vedono dalle altre province da poco tempo. Grazie per iniziare insieme a noi la vostra informazione giornaliera. Come sempre i giornali in pdf presenti sul nostro touchscreen, ma naturalmente noi procediamo con ordine perché vediamo il santo del giorno e poi le previsioni del tempo. Allora oggi è sabato 21 gennaio, è Sant'Agnese, Vergine e Martire, il sole è sorto alle 7.34 e tramonterà alle 17.04. Previsioni del tempo con didascalie molto scarne come vedete, oggi per sabato dalla cartina scompaiono le simbologie di nevicate, piogge, gelo, insomma vedete il cielo sarà nuvoloso per nuvi basse locali ma anche con schiarite, nessuna precipitazione, le temperature sono stazionarie, anzi in lieve aumento e i venti sono passati a brezza leggera e il mare anche si sta calmando poco o poco mosso. Le previsioni per domenica più o meno a coppia carbone con quelle di oggi, cielo parzialmente nuvoloso per nubi medio-basse in aumento però nella serata, però vedete compare su tutte le nostre province, su tutte le nostre appunto province marchigiane e sul crinale appenninico anche la simbologia del sole quindi le temperature sono in lieve aumento e il mare sarà mosso. Vediamo come si presenta all'inizio della settimana, ecco forse peggiora un po', vedete sul crinale appenninico la nuvolosità è più intensa e quindi il cielo sarà nuvoloso, possibilità di deboli piovaschi anche in serata sul settore meridionale, quindi ricompare la pioggia, però le temperature saranno comunque stazionarie o continueranno ad aumentare di qualche grado. Insomma questo è il tempo che ci aspetta per le prossime 48 ore. Bene, adesso entriamo nelle pagine dei giornali e parliamo appunto di come sta andando lì in quelle zone, soprattutto come stanno procedendo i recuperi nell'albergo dove sono intrappolate ancora delle persone, però ci sono degli aspetti positivi, ecco come apre il Corriere Adriatico che tratta ampiamente questa pagina di cronaca con diverse pagine, ve ne facciamo vedere alcune. La pagina di apertura appunto è questa, Samuel è vivo, il bambino di Osimo è stato salvato con altri tre piccoli all'hotel travolto dalla valanga, dispersi però ancora i genitori e c'è un giallo anche della lista. Comunque Samuel è vivo, questo è il titolo di apertura e poi ancora sopravvivere prima e dopo, come si fa, quindi che cosa è successo, parlano anche coloro che sono stati recuperati, un giorno appesi alla speranza per i marchigiani e arrivano anche le turbine e spazio di neve, però sono senza catene e quindi fanno fatica ad arrancare nella neve. Allora, vediamo nelle pagine interne, eccola qui la pagina che riporta il ritrovamento, il salvataggio di Samuel, nella pagina 2 del Corriere Marche, ecco qui vedete la famiglia, il piccolo Samuel con i genitori che sono ancora dispersi, questo è il piccolo Samuel e questa è una delle foto fatte proprio durante la vacanza all'hotel e qui vedete ricostruito di fianco tutto la crono vicenda, insomma che cosa è successo minuto per minuto e anche la struttura insomma riportata nel grafico sopra, vedete questa è la valanga e insomma con questo rendering è stato ricostruito il posizionamento dell'hotel, vedete questa è una foto di com'era prima della vacanza e insomma questo è tutto bianco, l'hotel è qua sotto come vedete e quindi insomma queste sono le condizioni in cui stanno operando i soccorritori, salvato il piccolo Samuel ma i genitori sono ancora sotto le macerie, gli osimani Domenico di Michelangelo e Marina Serraiocco non sono nell'elenco ufficiale dei superstiti ma potrebbero essere tra le persone vive che i soccorritori stanno cercando di raggiungere nella notte o si diceva proprio nelle ore in cui stavano raggiungendo il luogo del disastro i soccorritori insomma si ipotizzava che così tante ore sotto la neve insomma non lasciasse molte speranze e invece vedete si sono create delle sacche all'interno che hanno fatto sì che ci siano ancora persone vive e quindi la speranza viene ancora alimentata per quelli che ancora mancano all'appello e quindi da una parte si gioisce e dall'altra si spera ancora campania festa ma poi a suspense ancora ad osimo un saliscendi di emozioni si sperava di ritrovare la famiglia intera per ora è stato recuperato soltanto appunto Samuel il bambino e ora si cercano i suoi genitori e quindi ancora dalle pagine che riguardano le marche quelli che mancano all'appello vedete qui le foto dei momenti concitati del recupero Paola Tomassini e Marco Vagnarelli una coppia residente a Castrignano di cui non si hanno notizie dopo la valanga al resort la vedete qui li vedete qui in una foto aspettiamo Marco e Paola a Castrignano Fulvio Vagnarelli attende notizie del fratello che non sente da mercoledì pomeriggio altra attesa pure per un ragazzo giovanissimo un pilota della Ryanair la famiglia del pilota dice speriamo ancora quindi questo ritrovamento di persone vive riaccende la speranza di chi attende ancora notizie dei propri cari la mamma e il fratello a Pescara sono appunto in attesa di notizie vedete qui Marco Tenda e Jessica Tinari l'abbraccio appunto con i parenti della fidanzata Jessica con lui appunto sotto le macerie quindi queste due famiglie unite da una tragedia e poi nel lancio della prima pagina c'era appunto questa notizia arrivano spazzaneve e turbine ma ahimè senza catene quindi doppia emergenza mezzi ANAS soccorsi sulla salaria una fresa arrivata dall'aeroporto di Fiumicino è andata in panne a uscita il sindaco Rinaldi dice bloccate dalla neve anche le vie d'accesso fondamentali c'è un po' troppa in improvvisazione questo è il sindaco Rinaldi poi per concludere il Corriere Adriatico vi porto nelle pagine di Senigallia si parla appunto di tasse Salasso indicato appunto come come riferendosi alla tassa Salasso Tari esplode la rabbia portiamo i rifiuti in comune gli albergatori incalzano l'assessore sui social i cittadini minacciano proteste clamorose quindi Salasso Tari si vede che sono arrivate delle cartelle molto salate per i rifiuti e allora insorgono i cittadini il Salasso Tari accende le proteste tra cittadini e albergatori questa era la prima pagina di Senigallia vi porto nella seconda che tratta di cronaca continuano ancora le intolleranze sui parcheggiatori abusivi qui siamo nella zona dell'ospedale e qui lo straniero addirittura blocca un'anziana e dice fuori i soldi o non parcheggi, shock all'ospedale per una pensionata diabetica ma interviene un poliziotto che la difende è una situazione critica da tempo quella del parcheggio dell'ospedale di Senigallia ci sono stati anche altri episodi e quindi insomma ci sono gli agenti di polizia e vigi urbani che la monitorizzano quindi fortuna per la signora che c'era un poliziotto nelle vicinanze allora cambiamo testata, andiamo nelle pagine del resto del Carlino parliamo, andiamo a Pesaro il comune sgombra il centro sociale, tensione e polemiche il centro sociale di via Leoncavallo non esiste più le polemiche e le accuse, questa città è cambiata qui chiudono e Casa Pound apre la sede in via Mancini dialogo tra sordi, il materiale doveva essere salvaguardato facciamo da soli, non toccate niente questi i commenti appunto dei ragazzi del centro sociale tutto fuori, materiale evacuato e sigilli l'amarezza dei membri del collettivo Malar Levet ancora nelle pagine si parla di territorio e di sanità ieri c'è stato un incontro organizzato dal tribunale del malato nella sede della fondazione Carifano a Fano in cui c'erano amministratori e cittadini la sanità del territorio assumerà per i cittadini un peso sempre maggiore e quindi è necessario costruire una nuova sinergia con la realtà ospedaliera abbattendo steccati e barriere per dare risposte efficaci questo hanno detto i dirigenti sanitari in questo incontro appunto però la segretaria regionale di cittadinanza attiva del tribunale del malato Monica Mancini che vedete qui nel riquadro però ha preso la parola e ha attaccato duramente la politica sanitaria regionale e dice infine sappiamo rivolta a Ceriscioli che sta lavorando al nuovo piano sanitario credo che se ci fosse la possibilità di partecipare sarebbe più facile arrivare all'obiettivo comune quindi un jacuzzi a Ceriscioli come c'è nel titolo sanitaria ormai vicina al collasso ospedali chiudi, chiusi nessuna alternativa e quindi insomma Monica Mancini il tribunale del malato punta il dito contro Ceriscioli si naviga dice a vista e poi una battuta del presidente dell'associazione dei medici Paolo Battistini dice più attenzione al territorio ma se fra un po' non avremo abbastanza medici di base questa è la sua considerazione nelle pagine di Fano del resto del Carlino si continua a parlare di sanità anche qui però per un fatto di cronaca cade dalla barella al pronto soccorso siamo al pronto soccorso di Fano si procura un trauma cranico lividi e ha perso anche dei denti cade il tutto è avvenuto a una signora ultraottantenne la vedete nel tondo Pierina Bove è caduta, brutta avventura il figlio dice medici costretti a lavorare in condizioni pietose è ancora incosciente purtroppo la signora di 85 anni è stata trasferita in geriatria e gli avvocati sono già al lavoro perché dopo essere stata visitata è stata lasciata in attesa sola nel corridoio del pronto soccorso su una barella dalla quale è caduta procurandosi appunto il trauma cranico e la perdita di alcuni denti e poi si inaugura un nuovo tratto di strada nel porto di Fano 400 metri di careggiata con a fianco vegetazione e pista ciclabile l'ha realizzata Marina Group come opera accessoria per quello che realizzerà in quell'area con un investimento di 13 milioni di euro per riportare slancio e forza alla canteristica e alla pesca ieri inaugurato questo tratto come vedete nuova strada verso il porto turistico metterà in collegamento appunto la zona della Sassonia con il porto l'offerta è quella per insomma ampliare la qualità dell'approdo e migliorare appunto i servizi il prossimo progetto riguarderà la passeggiata del Lisipo che anche qui sempre per opera di Marina Group riceverà un restyling speriamo prima dell'estate per accogliere al meglio turisti e quanti vogliono godere di questa bella passeggiata insomma che si affaccia sul mare vi porto a Urbino l'ultima pagina che vi faccio vedere del resto del Carlino dopo gli insomma i disagi del maltempo vedete i ragazzi qui per le strade urbinate e si rinvino gli esami di 15 giorni questa è la richiesta dei rappresentanti di Agorà dopo i disagi per le nevicate e quindi tutto è un po' andato a rilento si chiede questa proroga per avere naturalmente più tempo per preparare al meglio perché durante i tempi delle insomma le ore in cui c'è stato praticamente Urbino bloccata dalla neve certo non come nel 2012 però insomma comunque le attività scolastiche studentesche e anche gli esami erano stati bloccati e quindi insomma la richiesta dei ragazzi è questa bene questa è l'ultima pagina che vi facevo vedere grazie per questa rassegna stampa ultima rassegna stampa della settimana di sabato occhio ai giornali tornerà lunedì mattina puntualmente alle 7.30 come sempre buon fine settimana a tutti voi grazie a tutti